Ha colpito con lo specchietto un ciclista ma non si è fermato a soccorrerlo. Adesso, dopo accurate indagini, il pirata della strada è stato rintracciato e sanzionato dalla polizia municipale di Arezzo. È successo nei giorni scorsi alle porte della città. Il ciclista è stato urtato durante un sorpasso, fortunatamente riuscito a mantenersi in equilibrio senza cadere rovinosamente a terra. Nell'impatto, però, lo specchietto destro dell'auto si è staccato ed è rimasto sull'asfalto, lasciando così un indizio determinante affinché i vigili urbani rintracciassero l'automobilista. Sul posto è intervenuta la municipale che, dopo aver recuperato lo specchietto, ha raccolto le dichiarazioni di una testimonia in grado di fornire due lettere della targa dell'auto ed avviare così un'indagine. Elementi che, assieme ad una ricerca nelle carrozzerie concessionarie della città, hanno permesso agli agenti di individuare l'auto e il suo conducente. Quest'ultimo, invitato presso il comando di via Sette Ponti, ha ammesso l'accaduto venendo sanzionato per non essersi fermato e per aver sorpassato il ciclista, creando una situazione di pericolo. Grazie.